Buonasera, benvenuti ad una nuova edizione di Spazio Professioni. Vediamo insieme le notizie di questa settimana. Confronto aperto sulle norme da rottamare, un osservatorio per il monitoraggio dei tempi e delle procedure amministrative di comuni e regioni per individuare modelli virtuosi da proporre come best practices a livello nazionale. Il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Mariana Madia, arruola i liberi professionisti per snellire tempi e procedure amministrative. E' quanto emerso durante l'incontro con Confrofessioni, la Confederazione Italiana Libere Professioni, che si è svolto a Roma presso la sede del ministero. Questo governo ha fatto una scelta. Noi, diciamo che noi ancora da oltre un anno, avevamo pensato al problema semplificazione e sussidiarietà, che per noi erano un po' uno figlio dell'altro. Cioè, nel senso che sempre di più noi professionisti, come dicevo prima, riscontriamo che c'è un'grandissima burocrazia che pesa moltissimo sullo sviluppo economico del Paese, pesa a tutti i livelli ed è stratificata, perché delle regioni, delle province, c'è di norme a livello nazionale, c'è una difficoltà di interpretazione e poi, sappiamo benissimo, abbiamo letto molte volte, spesso anche in questi giorni, malaguardatamente, che tutta questa burocrazia fa sì anche che finiscono con infiltrarsi personaggi più o meno legittimi, i quali proprio in nome di una trasparenza che manca riescono a fare dei comportamenti legittimi e provocano dei gravi danni al Paese, diciamo sia di immagine ma anche di aspetti pecuniali. Un coro dei nostri è sollevato all'indomani dell'entrata in vigore, data 30 giugno, del posto obbligatorio per imprese e professionisti. Per i professionisti si tratta di una norma inutile, data la tracciabilità tramite bonifico assegno della maggior parte della prestazione. E costosa, tra canone di locazione dell'apparecchio, installazione e costi per transazione, la spesa si aggirerà intorno ai 1200 euro annui. Per il presidente di Comprofessioni, Gaetano Stella, è necessario abbassare i costi e distinguere le varie situazioni dei professionisti. Finalmente, per i dottori commercialisti, torna l'ora della normalità sul fronte dell'ordine professionale. A quasi due anni di distanza, infatti, il Consiglio torna a rinnovarsi nell'appuntamento di mercoledì 16 luglio. Due, infatti, gli stop che hanno bloccato l'elezione del nuovo direttivo per commercialisti ed esperti contabili ormai sprovvisti di rappresentanza da ottobre 2012. A sfidarsi saranno due liste, Vivere la professione, sodalizio tra le due componenti ostili alle elezioni mai svolte di febbraio 2013 e ora confluite in un'unica compagine, sotto la guida di Gerardo Longobardi, in lizza come presidente e Davide Di Russo in qualità di secondo. Dall'altro lato, la lista è etica, che vede al timone Giovanni Prisco, in rappresentanza di una galassia di ordini periferici e di dimensioni ridotte. Vice, in caso di vittoria, sarà Massimo Ivone. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con comunicato stampa del 7 luglio, rende noto che a due mesi dall'avvio delle nuove procedure IMSS per il DURC interno e l'invio delle note di rettifica arretrate, la Commissione IMSS del CNO e l'ANCL hanno segnalato al direttore dell'istituto alcune criticità rimaste risolte, minacciando l'assenzione dalle attività in caso di mancata revisione del sistema, in virtù del codice di autoregolamentazione dello sciopero appena approvato dalla Commissione di Garanzia. Cambiamo argomento, parliamo di economia e sentiamo gli ultimi dati elaborati da Banca Italia sulle prospettive di ripresa del nostro paese. La batosta sul 2013 era nota, ma la vera preoccupazione è che il sud Italia, nei primi mesi del 2014, fatichi a emergere dalla crisi, tagliato fuori come è dalla ripresa dell'economia internazionale, a differenza del nord e anche del centro, dove le esportazioni suppliscono in parte alla caduta della domanda e della spesa pubblica. Nel suo rapporto sulle economie regionali, la Banca d'Italia parla appunto di disomogeneità dei segnali di ripresa di quest'anno, con il riavvio dell'attività delle regioni centrosettentrionali, che non si è ancora steso a quelle meridionali, meno aperte agli scambi internazionali. Dall'istituto centrale si ricorda poi come le imprese del sud paghino di più non solo la loro minore dimensione o propensione all'export, ma anche le carenze del territorio, quali infrastrutture e inefficienze delle amministrazioni e illegalità sotto forma di tassi di interesse più alti, 8% contro il 6,2% del centro nord. Una situazione che replica e amplifica quanto succede fra aziende dei paesi del sud e del nord Europa, nonostante la moneta unica e l'azione straordinaria della BCE. Problemi anche da quello che dovrebbe essere uno dei giacimenti dell'Italia. Secondo l'indagine sul turismo internazionale condotta dall'Istituto centrale nel 2013, i pernottamenti dei viaggiatori stranieri in Italia sono diminuiti in tutte le ripartizioni geografiche. La spesa complessiva dei turisti stranieri in Italia ha invece registrato un aumento pari al 3,1% a livello nazionale. Il ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, ha chiarito quali sono le condizioni dei conti pubblici del nostro paese posto alcuni paletti circa le trattative in corso con l'UE per flessibilità e crescita. Sentiamo i dettagli nel servizio. L'Italia si presenta in Europa con i compiti fatti, con le riforme avviate a una velocità mai vista e con la ferma intenzione di rispettare le regole UE, a partire da quella del 3%, ma quelle regole hanno ampi margini di flessibilità che va usata al meglio. Alla vigilia di Eurogruppo ed Ecofin, dove dovrà illustrare le linee guida del semestre europeo a guida italiana, il ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, mette alcuni punti fermi sulla condizione dei conti pubblici del bel paese, escludendo la necessità di una manovra correttiva in autunno e comincia a indicare la direttrice su cui si muoverà la trattativa con Bruxelles. La flessibilità già scritta nelle regole UE finora è stata usata con parsimonia, anche perché è mancato un chiarimento su quale sia l'impatto delle riforme sulla crescita, spiega il ministro. E proprio sul valore delle riforme si giocherà la partita per ottenere un po' più di respiro sul fronte dei conti pubblici. La deviazione temporanea dal sentiero di convergenza verso il pareggio strutturale, ricorda il ministro, è già ammessa, ove un paese implementi le riforme strutturali. Sentiamo anche le dichiarazioni del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha espresso suo monito sulla necessità di preservare l'unità del paese. Dalla Slovenia, in occasione del centenario della Grande Guerra, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, invia un messaggio di fiducia. La compattezza dell'Europa deve rimanere punto di riferimento per la politica, non solo italiana, ma soprattutto resta uno strumento essenziale che i popoli di governi europei hanno a disposizione per mettersi alle spalle questi difficili anni di crisi economica. Giusto porsi problemi di correzione nelle istituzioni dell'Unione Europea, ma guai a mettere in discussione il principio dell'unità. Il capo dello Stato non nasconde dei molti momenti difficili che la costruzione europea ha conosciuto. Forse, rimarca, nessuno è però così grave come il periodo che stiamo vivendo da 7-8 anni. Napolitano ricorda quindi i trattati istitutivi della comunità europea firmati a Roma nel 1957 e i dibattiti difficili di quel momento anche nel Parlamento italiano. Impossibile non leggere nelle sue parole un riferimento alle tensioni che si registrano ora in Europa. L'Unione per il Capo dello Stato è un patrimonio comune da difendere. Napolitano parla davanti all'ingresso del Santuario Mariano di Svetagora a due passi dal confine tra Italia e Slovenia. Siamo qui per una testimonianza e un impegno di pace che significa testimonianza e impegno di amicizia perché la pace non è solo assenza di guerra ma anche cooperazione, comunanza di sforzi e solidarietà. Chiudo con una notizia dell'ultima ora. Oggi si è svolta l'audizione di Comprofessioni in Commissione Affari Costituzionali dove è in corso l'esame sul decreto sulla pubblica amministrazione. Il provvedimento va nella direzione giusta dichiarato il Presidente Gaetano Stella ma serve un ambiente istituzionale più responsabile e funzionale per sostenere la crescita economica del Paese. Davanti al Presidente della Prima Commissione della Camera, Francesco Paolo Sisso Stella ha illustrato le priorità di intervento dei professionisti che sono chiamati ad operare quotidianamente quali intermediari tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Bene, questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.